Professor Casati, questa è l'occasione per fare il punto di un settore che tra l'altro vedeva il nostro paese anche abbastanza forte sui mercati interni e stranieri. Sì, intanto siamo ancora forti sui mercati, certamente siamo in un momento in cui è tutta l'agricoltura che deve fare un po' il punto sul suo futuro. Noi siamo in una fase in cui la crisi mondiale sta tenendo ferma la domanda di prodotti agricoli. Quando la crisi finirà la domanda riprenderà, nei paesi emergenti comunque c'è ancora domanda di prodotti agricoli che va avanti e quindi servirà a produrre di più. La curva della produttività data dalle scoperte che abbiamo sfruttato in questi 60 anni si sta appiattendo, serve innovazione. Innovazione in tutte le materie che riguardano i mezzi tecnici, in particolare la meccanizzazione. Anche perché se l'economia riprende di nuovo ci sarà deflusso dall'agricoltura verso gli altri settori e quindi bisognerà mettere in bilancia l'occupazione. Allora, le macchine certamente sono una grande scelta. Bisogna capire che però è un mercato, come dire, stratificato, a fette. Ci sarà il mercato dei paesi ricchi dove serviranno macchine potenti ma con molto servizio incorporato. Quindi macchine guidate con GPS, satelliti, elettronica a piene mani. E ci saranno due, tre fasce diverse relative agli altri paesi in cui serviranno macchine rustiche, semplici, semplici da guidare, semplici da fare manutenzione. Perché logicamente si parte. Ovviamente avranno un percorso più veloce del nostro percorso storico, però sicuramente serve un po' di tutto. Un po' come quando noi dopo la guerra avevamo la BCS al posto della Vespa in campagna.